Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio un video molto veloce perché c'è una notizia spettacolare e consentitelo anche molto strana da parte della Games Workshop perché è veramente una cosa che capita di rado, o forse quasi mai, e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Qui davanti vedete l'ultima edizione di Warhammer Quest, Cursed City, città maledetta, con un po' delle migliori miniature messe qua davanti. Come vedete addirittura vampiri, combattenti, un altro vampiro più piccolo in una forma trasformato, tutti quanti gli eroi, i protagonisti dell'avventura e laggiù altre pedine che sono tipo scheletre e cose del genere. Vi ricordate Città maledetta, un gioco della Games Workshop stand alone? Ovviamente comprate, spacchettate e giocate, non penso che ci saranno espansioni o comunque il contenuto della scatola basta e avanza per giocare tantissime avventure. È un prodotto di cui vi ho già fatto un video mesi fa e ci rimanda un po' a quel Warhammer Quest edizione dei primi del 2000 che, se vi ricordate, era un po' il successore di Hero Quest, un altro prodotto spettacolare della Milton Bradley, cioè pubblicato da Milton Bradley ma di proprietà sempre della Games Workshop, che ci rimanda all'interno di un dungeon dove noi dovremo portare avanti una storia, che in questo caso ovviamente è un castello infestato dai vampiri, portando avanti varie singole avventure che porteranno a compimento di una campagna generale. Ed è veramente molto 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 bello perché, a parte il contenuto che c'è all'interno e un'altra figata, sono tutte miniature, come vi faccio vedere qui, comprensive di Warscroll. Vi ricordate che le Warscroll sono quelle carte per Warhammer e Age of Sigmar che vi consentono di usare tutto il contenuto della scatola per schierarle sul campo in Age of Sigmar. Ovviamente magari questa roba la schiererete con i non morti di Nagash e quest'altra magari con l'Impero, però ci sono tutte quante le Warscroll per schierare tutte le miniature che troverete nella scatola del gioco anche su Warhammer. Quindi fate un acquisto doppio, perché magari uno di... è strano, eh? Di città maledetta, gli ne frega poco o niente, però comunque le miniature se le tiene comunque ci gioca, le schierane dell'esercito e quant'altro. Quindi è un prodotto veramente spettacolare. E perché vi ho detto che è un momento raro, particolare, e consentitevelo anche quasi unico? Perché Games Workshop, visto il successo e vista la richiesta da parte dell'agente, ragazzi, è andato a ruba. È andato a ruba, è uscito nel giro di una settimana, non si trovava più una scatola e i bagarini ti chiedevano anche il doppio, 300 euro e passa. La GV ha deciso di fare una ristampa. Farà una ristampa nel mese di giugno e se andate sul sito del nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola, che trovate primo link in descrizione e in sovraimpressione, lo trovate già preordinabile a 155 euro. Ricordatevi sempre di usare il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e spedizioni gratuite perché superate la spesa di 79 euro minima. Quindi spedizioni gratuite in 48 ore in tutta Europa. Se fate il preorder già da ora è meglio perché almeno quando esce a giugno ci avete la vostra copia messa da parte. Gioco Libreria Semola al solito ne ordinerà 20-30 copie. Però, ragazzi, in 3-4 giorni va via questo. Quindi se qualcuno l'ha preordinato poi quando arrivano le copie o magari qualcuno arriva al negozio e glielo paga in contanti non fate in tempo ad accaparrarvelo. E è un gioco, ragazzi, spettacolare. Non ve lo lasciate scappare perché GV non fa, ma per niente, ristampe. L'unica volta che GV ha fatto ristampe assurde sono arrivati alla quarta, non tanto ristampa, alla quarta edizione, per me del loro capolavoro, che l'ho detto è il mio gioco preferito, Space Hulk. Per me Games Workshop uguale Space Hulk, il gioco più bello che abbiano mai fatto, e sono arrivati alla quarta edizione. Che sanno che ne tirano fuori, ad esempio, un milione di copie, gliene chiedono due milioni. Perché comunque è un gioco che va a ruba e fanno adorano da più di 20 anni e quindi fanno diverse ristampe e nuove edizioni. Città Maleditta ha fatto questa ristampa, non penso che ne faranno più. Quindi prendetevelo subito a 155 euro, più il mio codice discount, con lo sconto di 7%, e spese postali gratuite, quindi magari le andate a pagare 140, 135, una cosa del genere, senza spese postali, direttamente, come avete visto, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla gioco libreria Semola. Ragazzi, dateci un'occhiata e andatevi a vedere il vecchio video che ho fatto su questo gioco, perché è uno spettacolo assurdo e vi catapulta in una parte, in un'ambientazione di Warhammer Quest, molto, molto, molto Bram Stoker, in mezzo ai vampiri, ed è veramente di uno spettacolo assurdo, e poi le miniature sono veramente stupende, tra le più belle che abbia mai visto. Andateci a dare un'occhiata e questo è il momento di fare il pre-order. Ciao ragazzi, alla prossima!